90 minuti per sperare in un miracolo, altrimenti saranno play-out. L'Aquila prova a tornare a vincere in extremis nella penultima partita di campionato contro la Lucchese, ma potrebbe essere già troppo tardi. La salvezza diretta dista infatti 4 punti e ai Rosso-Blu potrebbero non bastare neanche gli altri 3 da conquistare domenica prossima contro la Lupa Roma. Molto dipenderà infatti dai risultati delle dirette concorrenti, vedi Prato, Rimini, Lupa Roma appunto e Sant'Arcangelo. I Rosso-Blu ad ogni modo non possono che vincere per alimentare le speranze ed ogni caso per centrare la miglior posizione possibile in vista dei play-out. In settimana la società ha interrotto il silenzio stampa e ha provato a rasserenare una città che sta vivendo da settimane con lo spettro retrocessione, situazione che sembrava impensabile fino a due mesi fa in virtù soprattutto della riduzione della penalizzazione. Ma tant'è e non c'è più tempo per polemiche o recriminazioni. Lo sa bene il tecnico Giacomo Modica che proverà a schierare la formazione migliore, considerando però le defezioni di Pesoli in difesa e Bulevardi in mezzo al campo. Nel 4-3-3 di partenza davanti a Scotti sono sicuri di una maglia i siciliani di Mercurio a destra e Maccarrone in mezzo. L'altro slot da centrale dovrebbe essere di Cosentini ma il condizionale è d'obbligo per via dei problemi fisici accusati in settimana dal giocatore. Se non dovesse farcela ci sarà uno tra Bruno e Sanni con Piva a sinistra. A centrocampo c'è attesa per rivedere in campo il croato Milicevic da playmaker con De Francesco Benzaia a destra e Manuel Mancini mezzala a sinistra. In attacco tutto lascia pensare ad un ritorno da titolare per la Pantera De Sousa, entrato benissimo nel secondo tempo di Rimini. Con San Domenico sarà Tommaso Ceccarelli a completare il tridente, migliore in campo nell'ultima uscita a Rimini e rivitalizzato dalla cura modica. La salvezza dell'Aquila, diretta o tramite spareggi, potrebbe passare proprio dal suo talento, mai messo davvero in mostra da quando è ai piedi del Gran Sasso. Tecnico, squadra e tifosi lo sperano, il campo darà una risposta.